Che l'ospedale di Vibo Valencia sia un casa a sé nella pur genericamente martoriata sanità calabrese è cosa purtroppo ben nota, con una criticità ben distribuita in tutti i settori sanitari e non. Ma che si arrivi ai paradossi attuali è certamente il dato più inquietante e sconfortante. Basti pensare alla situazione di ortopedia, reparto a rischio e chiusura perché in assenza del suo primario. Ma perché paradosso? Perché, malgrado la generale volontà di risolvere il problema, ci si trova nell'assurda condizione di non poter nominare il primario di ortopedia. C'è la commissione, ma manca il presidente, che deve essere inderogabilmente il direttore sanitario aziendale effettivo, che ancora l'azienda sanitaria di Vibo Valencia non ha, perché non è e non è messo in condizioni di nominarlo. E così, la carenza di una figura cardine porta di conseguenza ripercussioni sull'organizzazione complessiva della struttura ospedaliere, e quindi a cascata, sull'erogazione di un servizio pubblico che possa definirsi almeno soddisfacente per l'utenza. Ortopedia costituisce uno dei più grossi handicap che oggi sta vivendo l'ospedale di Vibo. È formato da soli tre medici, quattro medici in servizio, non ha un primario. Il decreto Calabria è entrato in vigore nel momento in cui si andava, una volta sorteggiata la commissione, a svolgere il concorso per primario, e questo ha impedito lo svolgimento perché manca a Vibo il direttore sanitario aziendale. Nei miei poteri non rientra la nomina, perché la mia era una reggenza destinata a durare una settimana, 15 giorni, e le intenzioni di legge invece si sta protraendo nel corso del tempo. E ho scritto più volte la struttura commissariale al Dipartimento Tutoriale della Salute per trovare delle soluzioni alternative, o perché mi autorizzassero comunque in deroga a quelle che sono le norme, a trovare una soluzione perché il concorso si potesse svolgere in tempi brevi. Abbiamo mantenuto l'apertura del reparto e scongiurato la chiusura grazie a delle prestazioni aggiuntive che vengono svolte da medici di altre aziende, dell'azienda sanitaria di Cosenza e dell'azienda sanitaria di Lamezia, ma è chiaro che questi sono interventi chirurgici programmati che non consentono il superamento dell'intervento d'urgenza, che viene comunque smistato sulla Lamezia Terme. Si possono ipotizzare dei tempi per la soluzione? Spero di sì, credo per la fine del mese se giungessero dei segnali positivi o delle autorizzazioni, ci metteremo molto poco a organizzare perché la Commissione è già sorteggiata a svolgere poi nel mese d'ottobre il concorso.